Una donna dalla forza dirompente, capace di contagiare l'entusiasmo nonostante la malattia neurodegenerativa che cerca di frenarla. Giorgia Righi, di Gallo, è l'ispiratrice di Ancora Volano le Farfalle, film girato a Pesaro e riproiettato al Ducale di Urbino in occasione dell'8 marzo. Quando una cosa affronta degli ostacoli, qualunque esso sia, se l'universo si allinea in tal modo che ti concede il lusso e la possibilità di poter comunque portare a termine quel sogno, vuol dire che in qualche modo l'universo ci credeva più di noi in questa storia. La storia racconta dell'incontro illuminante tra Giorgia, interpretata da Beatrice Mariani, e Italo, un giornalista ormai allo sbando. I sogni incontaminati della ragazza riaccendono la scintilla anche in lui. Il film dondola tra piccoli dolore e gioia. Il mio personaggio è un personaggio che in realtà riesce a beneficiare della positività, dell'energia e della vitalità di Giorgia Righi. Alla proiezione c'era anche Giorgia. Non fatevi mai dire che non siete adatti. È stata una delle frasi trainanti, pronunciate davanti a una platea gremita. Ho avuto una bellissima occasione di star vicino a Giorgia quando era molto piccola. L'ho avuta come insegnante sia in prima che in terza media. Ero alle mie prime esperienze, supplente. Lei veramente mi incoraggiava, mi indirizzava verso tutto quello che dovevamo fare insieme. La forza la esprimeva già da allora. Grazie.